buongiorno a tutti sono alfred73 benvenuti sul mio canale oggi vediamo come utilizzare questo modulo step up converter carica batteria a litio per rendere ricaricabile qualsiasi vostro dispositivo funzionante ad una tensione compresa tra 4 e 27 volt questo modulo infatti genera qualsiasi tensione a partire da una batteria da 4,2 volt al litio e lo specifico andrò a modificare questo dosa sapone per renderlo ricaricabile con batteria a litio una volta modificato può essere ricaricato con qualsiasi caricabatterie micro usb marca umbra modello 8 disponibile in svariate colorazioni questo dosa sapone si è rivelato nel tempo uno dei più affidabili ed efficienti a un serbatoio per la ricarica del sapone liquido e un interruttore per l'accensione e lo spegnimento del dispositivo la sua prerogativa principale è dosare il sapone senza contatto l'unico difetto è che funziona con quattro batterie mini stilo alcaline per un totale di sei volt e sbarazzarmi di queste batterie rendere ricaricabile questo dosa sapone ci occorrerà innanzitutto un contenitore rotondo come questo che vedete in alluminio per contenere il circuito e la batteria a litio necessaria questo tipo di contenitori tondi vengono normalmente utilizzati per installare all'esterno delle telecamere di videosorveglianza sono contenitori ermetici a prova d'acqua hanno già dei fori predisposti per il fissaggio delle telecamere nel kit troviamo anche i tasselli di fissaggio a muro e le viti per chiudere questo contenitore nonché le guarnizioni in gomma per tappare i fori dei cavi si tratta ovviamente di un contenitore ermetico e quindi è l'ideale nell'ambiente del bagno dove c'è sempre dell'umidità e dell'acqua in agguato nella dotazione abbiamo anche questo tappetino in biadesivo che fa da fondo per il nostro contenitore gli altri ingredienti necessari per questo progetto sono una batteria litio 18.650 da 2.500 mili ampere e il modulo step up converter carica batterie al litio si tratta di un modulo reperibile su amazon di cui poi metterò il link in descrizione questo modulo dicevo fornisce da 4,3 volt a 27 volt in uscita a partire da una tensione di una batteria litio cioè di 4,2 volt osservando meglio le specifiche di questo modulo abbiamo una tensione di ingresso di ricarica che va da 4,5 8 volt tensione di uscita da 4,3 a 27 25 volte circa tensione di carica 4,2 corrente di carica un ampere massimo e corrente di scarica disponibile per il dispositivo massima di 2 ampere sul modulo troviamo un trimmer che consente di regolare la tensione in uscita da 4,5 24 volt abbiamo i due terminali di ingresso eventualmente di una tensione da 4,8 volt per la ricarica e i terminali della batteria quale che sia la tensione di ricarica questa tensione entra nel circuito viene trasferita all'integrato tp 4056 che si occupa di caricare la batteria a litio due led di segnalazione segnalano l'avvenuto caricamento della batteria questa tensione viene fornita poi al circuito step up converter rappresentato da questo microchip l'impostazione della tensione in uscita avviene girando questo piccolo trimmer per collegare questo modulo alla batteria a litio oggi condivido con voi un metodo alternativo alla saldatura a punti la cosiddetta stagnatura dei terminali per effettuare questa operazione dobbiamo rimuovere la zincatura superficiale altrimenti lo stagno non attaccherà mai anche perché dobbiamo essere molto veloci nell'effettuare la saldatura con un dremel vado a smerigliare leggermente sulla superficie del polo negativo e del polo positivo dove andrò ad effettuare la saldatura a stagno senza questa accortezza non potremmo mai saldare dei fili sulle batterie a litio vado a spennellare con del flussante liquido entrambi i terminali positivo e negativo questo flussante agevola il processo di saldatura importante che la stagnatura avvenga in 3 massimo 4 secondi per non rovinare la batteria stessa cosa per il polo positivo stando attenti a non cortocircuitare la pista negativa adiacente a questo punto la mia pila è pronta per essere saldata sui terminali bat più e bat meno del mio modulo step up converter quando fate queste operazioni state attenti ai cortocircuiti tra più e meno della batteria perché ci sarà un grande assorbimento di corrente con relativo rischio di esplosione quindi mi raccomando massima prudenza vado a saldare il terminale positivo e negativo per il mio dispositivo in uscita con l'aiuto di un multimetro un voltometro collegato all'uscita vado a settare con il trimmer la tensione desiderata nel mio caso una tensione di 6 volt regolando lentamente il trimmer possiamo arrivare fino alla tensione desiderata con esattezza fatta la taratura della tensione di uscita il mio modulo è pronto per essere installato sul mio dosa sapone funzionante a 6 volt prima però devo andare a collegare i due terminali delle batterie al mio modulo anche qui stessa tecnica rimuovere lo smalto con la smerigliatrice e poi effettuare la saldatura vi ricordo che se avete delle domande sui miei progetti sui miei video potete inserire all'interno della sezione dei commenti sottostanti e cercherò di rispondervi prima possibile vado ad effettuare la stagnatura del terminale negativo e del terminale positivo del mio portapile originario una volta stagnati i polli positivo e negativo andiamo a misurare la distanza presente sulla plastica per riportare questa misura sul mio coperchio in alluminio per poter effettuare dei fori di fissaggio sul fondo del dosa sapone pratico dei fori sul mio coperchio in alluminio per il fissaggio al fondo del dosa sapone prima di inserire il circuito la batteria all'interno della scatola però vado a dissaldare uno dei due poli della batteria per evitare cortocircuito in fase di montaggio e anche ad isolare entrambi i poli della batteria perché il contenitore è in alluminio fatta questa operazione di isolamento con dello scotch vado a fissare all'interno il mio modulo step up converter utilizzando del biadesivo che funge sia da elemento di fissaggio al contenitore che da isolante nei confronti dell'alluminio questo modulo ovviamente dovrà essere fissato nei pressi del foro di uscita dotato di l'apposita guarnizione in gomma per potervi accedere facilmente per la ricarica per effettuare la ricarica sarà necessario rimuovere questo tappo posto a protezione dall'acqua a questo punto faccio passare i due fili di alimentazione dei sei volte attraverso il foro centrale del mio coperchio fili che vado a saldare al terminale positivo il giallo e negativo il nero del mio dosa sapone attraverso questi due fili la mia batteria al litio fornirà i sei volte necessario al dosa sapone vado a segnare i fori di fissaggio sul fondo del dosa sapone una volta effettuati i fori sulla plastica posso andare a fissare il mio coperchio utilizzando queste due viti autofilettanti molto sottili se vi sta piacendo questo video questo è il momento opportuno per mettere un bel pollice in su e iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto grazie per il vostro supporto una volta terminato il montaggio posso risaldare il terminale negativo al circuito prima di chiudere il tutto però andiamo a effettuare un po di misurazioni vediamo in modo particolare l'assorbimento in corrente di questo modulo con il mio solito amperometro a pinza di cui troverete il link in descrizione vado a misurare la corrente in standby di questo circuito nel complesso abbiamo all'incirca 5 mili ampere pari a circa 20 giorni di autonomia corrente che sale a 1,6 ampere in caso di erogazione la corrente di carica stabilita dal modulo tt 4056 è all'incirca di 0,7 ampere quindi il nostro modulo impiegherà circa quattro ore per ricaricare completamente la batteria da 2,5 ampere ora a questo punto possiamo andare a richiudere il tutto e avvitare saldamente il mio contenitore in alluminio non dimentichiamo infine il tappetino biadesivo in fondo per dare una maggiore stabilità a questo doto sapone ricaricabile una bella ricarica fino in fondo con caricabatterie micro usb e siamo pronti per il test finale di questo dosa sapone ricaricabile ricarichiamo ovviamente il sapone ed il mio dosa sapone ricaricabile è pronto per funzionare in questa nuova modalità bene amici di youtube l'erogazione è regolare il mio dosa sapone è ora ricaricabile al litio grazie a questo modulo step up converter e caricabatterie al litio potremmo rendere ricaricabile qualsiasi nostro dispositivo utilizzando semplicemente un singolo elemento da 4,2 volt io spero che questo video vi sia piaciuto vi ringrazio dell'attenzione e come al solito vi invito a mettere like ed iscrivervi al canale per supportarmi grazie di tutto e ci vediamo alla prossima volta